Ok, allora, il tempo oggi cercheremo di dedicarlo in buona parte o in totalità, diciamo così, alla risoluzione di questo esercizio che è qua proposto sulle slide sul gioco del blackjack, o meglio una versione molto semplificata del gioco del blackjack. Proviamo a leggere insieme a ragionare sulle specifiche, sui requisiti del programma che dobbiamo realizzare. Realizzare un algoritmo che scrive un programma Python che giochi a blackjack contro l'utente, e quindi ci siamo, però vuol dire che una partita blackjack è una partita in cui chiaramente gioca sia il computer che l'utente. Si assuma che la mano si svolga tra il banco e un solo giocatore, quindi prima semplificazione, in una partita del blackjack ci sono più giocatori che giocano tutti contemporaneamente contro il banco, mentre invece qui abbiamo un giocatore solo, che è l'utente. L'obiettivo del blackjack è avere in mano delle carte la cui somma, se è più possibile, vicino a 21 ma senza superarlo. Quindi vengono date delle carte, il giocatore può decidere se fermarsi con le carte che ha oppure chiedere le carte aggiuntive. La somma di punteggi sulle carte si sommano e se tu superi col tuo punteggio 21, quindi da 22 in avanti, allora hai sballato, quindi perdi la mano. Se invece arriva un numero che è minore o uguale a 21, confronti il numero ottenuto dal giocatore con il numero ottenuto dal banco e alla fine decidi chi dei due ha vinto. Ovviamente bisogna tenere traccia, per decidere chi ha vinto, della somma dei punti delle carte del giocatore, da un lato, e della somma dei punti delle carte del computer, del banco, diciamo, chiamiamolo pure banco anziché computer, dall'altro lato. E poi confrontare questi due punteggi, ok? Quindi, queste regole del gioco semplificate sono quelle che vogliamo implementare. Allora, supponiamo che il gioco faccia giocare per primo il giocatore, normalmente il banco gioca sempre per ultimo. Quindi, la prima metà del programma farà giocare il giocatore. Il computer, innanzitutto, dà una carta a se stesso e due carte al giocatore. Di fatto, in Blackjack una carta è sempre nota, quindi il computer dice, io ho una carta e ho preso, penso, un 5. Poi dà al giocatore due carte. In teoria, la prima dovrebbe essere visibile, la seconda dovrebbe essere nascosta, ma ovviamente, poiché abbiamo un giocatore solo, questa differenza non la facciamo. Quindi, due carte è il numero minimo di carte che il giocatore può avere, può giocare. Una carta sola ti devi fermare. Siamo sicuri, per definizione, che con due carte non si può sballare, non si può superare il 21, perché è il punteggio massimo delle carte. Quindi, a questo punto, in base alla somma delle due carte ricevute, qui il giocatore ha due carte, sceglie se ricevere un'altra carta oppure fermarsi. Quindi, io ho un 3 e un 7, la somma fa 10, non mi basta chiedere un'altra carta e vado avanti così. Posso chiedere carte ripetutamente fino a quando non dico basta, mi fermo. In realtà, questa parte in cui posso richiedere carte si interrompe per due motivi, o perché ho superato il 21, e quindi ho sballato, e quindi automaticamente ho perso, indipendentemente da cosa fa o farà o ha fatto il banco. Oppure perché decido di fermarmi, perché secondo me, diciamo così, ho già un buon punteggio e rischierei di sballare se prendessi una carta in più. Quindi questa è una cosa che decide il giocatore. A questo punto, se il giocatore non ha perso, perché se il giocatore ha perso o ha sballato il 21, automaticamente è fuori, e quindi ha vinto sicuramente il banco. Altrimenti gioca il banco, e quindi di fatto gioca il computer. Allora, il computer usa una strategia per giocare, perché anche il computer seguirà le stesse regole e dovrà decidere se darsi delle carte in più oppure fermarsi. E quindi la regola che il computer si dà è che fino a quando la somma delle carte che ha è minore di 17, il computer prende ancora carte. Se invece ha un punteggio tra il 17 e il 21, il computer decide di fermarsi. Questa è una strategia di gioco molto molto, diciamo così, semplice. Tra l'altro non tiene neppure conto del punteggio che ha il giocatore, perché se io anche avessi 17 e il giocatore avesse 18, visto che lo so perché ha giocato prima il giocatore, io dovrei decidere di andare avanti lo stesso, perché se mi fermo perdo, se prendo una carta bassa potrei vincere, se prendessi una carta alta perderò di sicuro perché supero il 21, però fermarsi con la certezza di perdere non conviene. Viceversa, se il giocatore magari si fosse fermato con un 13 e io avessi già 15, allora mi conviene fermarmi piuttosto che arrivare fino al 17 rischiando di poi sballare nel tentativo di arrivare a un numero maggiore di 17. Quindi le strategie reali di gioco possono essere molto più complicate. Qui per il primo tentativo implementeremo questa molto molto semplice che si basa su una soglia fissa, cioè il 17, anziché cercare di ragionare sulla partita che sta giocando. Quindi prima gioca l'utente, poi gioca il banco. Se il banco supera 21, quindi se il giocatore non ha sballato e il banco invece sballa, allora automaticamente vince il giocatore. Se invece nessuno dei due è sballato e quindi entrambi hanno un punteggio che è minore o uguale a 21, quindi si sono fermati prima di superare il 21, allora si confrontano le due somme e vince chi ha la somma maggiore, chiaramente. Quindi il 18 vince sul 16. In caso di parità vince il banco. Quindi se abbiamo 16 e 16 il punteggio pari, diciamo così, viene assegnato al banco, al computer. Quindi il giocatore deve superare il banco per poter vincere. La parità da un punto al banco. Questo per quanto riguarda la gestione dei punteggi. Allora, quindi dovremmo impostare un gioco in cui ci saranno più round, più mani, in ciascuna mano gioca prima il giocatore, poi il banco e poi si decide chi ha vinto. E quindi si aggiorna il punteggio. Una mano successiva giocherà di nuovo il giocatore, poi il banco e poi si decideranno il punteggio e si aggiorneranno. Poi così via. Nella partita reale, in un gioco reale, chiaramente le carte vengono estate da un mazzo. Un mazzo che contiene le carte, le figure, le carte di vari semi, eccetera, eccetera. Il fatto di estrarre le carte da un mazzo fa sì che, ad esempio se io ho già estratto 3-10, la probabilità che estragga un altro 10 è molto più bassa rispetto a non aver ancora stato nessun 10 dal mazzo. Perché chiaramente nel mazzo ci sono solamente 4 carte per ogni valore. Allora, noi questa complessità qui non la gestiamo, non la vogliamo gestire in questa prima versione e quindi facciamo finta di avere un mazzo infinito. Un mazzo infinito vuol dire che in ogni momento c'è la stessa probabilità di estrarre una qualunque carta. Quindi la prima semplificazione. Non tengo conto del fatto che la probabilità di estrarre una carta dipende dalle carte che sono già uscite in precedenza. E quindi avere un mazzo infinito mescolato in modo perfetto, in modo totalmente random. A seconda ipotesi, semplifichiamo, non prendiamo un mazzo reale in cui ci siano le carte, le figure e i semi, ma diciamo che le carte sono numerate semplicemente con un valore da 1 a 10. Tutti i valori interi, l'asso vale 1 e ignoriamo le figure, facciamo finta che nel mazzo non ci siano le figure e non ci sia nessuna differenza di semi. In realtà nel blackjack il seme non serve a nulla, non viene usata ai fini del gioco. Quindi questa è una semplificazione molto forte, quindi in realtà non stiamo giocando veramente con le carte, stiamo giocando semplicemente estrando dei numeri da 1 a 10 con probabilità uniforme e poi vedendo che cosa capita con ciascuno di questi. Poi, una volta che abbiamo una soluzione base, è chiaro che la si può complicare a piacere, la si può aggiungere i semi, aggiungere il mazzo, eccetera, eccetera. Aggiungere le figure, decidere quanti punti valgono le figure. Nel gioco reale l'asso può valere 1, può valere 11 a seconda di che cosa decide il giocatore, quindi il giocatore può decidere quanto farlo valere. Però, diciamo così, sono tutti aggiunte che possiamo fare in un secondo momento. Per il momento accontentiamoci della versione più semplice. Poi nella slide successiva ci sono alcuni suggerimenti su come complicare un pochino il programma una volta che abbiamo fatto quello di base, ma diciamo così, non ce ne occupiamo. Allora, questo è un po' l'esercizio che vogliamo provare a fare. Noi abbiamo quindi la descrizione su questa slide che ci dice come funziona una singola mano. Poi sappiamo che questa singola mano dovrà essere ripetuta più volte, non è specificato qua la condizione di terminazione della partita. Però potremmo cominciare, diciamo così, a implementare una singola mano e poi sappiamo che la includeremo in un grosso ciclo nel quale verranno ripetute le varie partite e decideremo una condizione di terminazione. Allora, io ho già preparato un file blackjack.python, quindi scriviamo che questa sarà la soluzione dell'esercizio blackjack proposto sulle slide. Poi gli errori di italiano li correggo dopo, altrimenti non finisce più. Ok, allora, a livello di pseudocodice come lo implementiamo? Quali sono le idee di implementazione? Allora, abbiamo già capito, abbiamo un primo ciclo più esterno che gestisce le varie mani di gioco, ok? Varie mani, varie round di gioco, chiamiamoli come vogliamo. E quindi ci sarà un grosso ciclo che, diciamo, ripeti per varie, per molte mani di gioco. Diciamo finché l'utente non termina. E quindi abbiamo un ciclo che ripete l'esecuzione di una singola mano. E quindi come corpo di questo ciclo c'è gioca una singola mano del gioco. Giocare una singola mano cosa vuol dire? Vuol dire, innanzitutto, gioca il giocatore, poi gioca il banco, e poi infine determina il vincitore. Ed aggiorna il punteggio. Aggiorna i punteggi. Questa è un po' la logica top down di come vogliamo organizzare il gioco. Chiaramente gioca il giocatore, a sua volta si articola in, ti do la prima carta, anzi le prime due carte, ti chiedo se vuoi andare avanti, eccetera, eccetera. Quindi questo è solamente, diciamo così, un punto del programma che poi andremo ad espandere. Idem, la stessa cosa del gioco al banco, dove c'è la strategia del giocatore, e così via. Allora, il fatto che noi abbiamo dei punteggi da aggiornare ci fa già pensare subito a quelle che sono le variabili principali che questo programma dovrà elaborare. Noi possiamo definire delle variabili che tengono conto dei punti del giocatore e dei punti del banco. Poi ci sono i punti globali, non sono le somme dei punti delle carte. Il punteggio che ti dice quante volte ho vinto io e quante volte ho vinto il banco. E quindi possiamo già definire e dare dei nomi alle variabili che contengono questa informazione. All'inizio della partita, chiaramente partiamo a 0-0, tutti hanno punti, quindi possiamo chiamare, dire, punti giocatore uguale 0 e punti del banco uguale 0. Questi sono i punteggi complessivi, quindi il numero di punteggio è il numero di mani vinte da ciascuno. Quindi aggiorna i punteggi qua sotto, vuol dire che incrementerà o punti giocatore o punti banco a seconda di quello che è uscito. Però poi per determinare il vincitore ho bisogno di altri valori più locali, che sono la somma dei punti all'interno della singola mano. La somma dei punti delle carte del giocatore, che poi va confrontata con la somma dei punti delle carte del banco, per determinare chi è il vincitore. Allora, qui avremo due variabili diverse, possiamo chiamarle carte giocatore e carte banco, dove come carte intendo la somma dei punteggi delle singole carte del giocatore, all'interno di una singola mano. Quindi vuol dire che quando io gioco una singola mano, a un certo punto, quando gioca il giocatore, alla fine io esco da questa parte, da questa parte di codice, con un'informazione, una variabile che chiamerò carte giocatore. Quindi alla fine lo scopo di questa parte è che determina il valore di carte giocatore. Mentre invece la parte di codice che fa giocare il banco determina il valore di carte banco. Quindi in qualche modo stiamo dicendo che questa parte di programma farà le sue cose, ma alla fine l'obiettivo principale, o l'unica informazione che ci serve nel resto del programma, dopo che abbiamo fatto giocare il giocatore, è il valore numerico di questa variabile, che sarà un numero tra 1 e 30, può anche essere maggiore di 21 se il giocatore ha sballato. E idem, carte banco. Perché avendo solamente queste due informazioni, io posso determinare il vincitore. Quindi ad esempio, il vincitore, questo potremmo addirittura scriverlo già a livello di codice, il vincitore chi è? È colui che ha il punteggio più alto, quindi possiamo vedere se il giocatore ha sballato, carto giocatore, maggiore di 21, allora ha vinto il banco. Quindi diciamo print, vince il banco, e aumento il punteggio del banco, punti banco uguale, punti banco più 1. altrimenti, secondo caso, ha sballato il banco, quindi carte, banco, maggiore di 21. Allora dirò hai vinto, cioè vince il giocatore, e aumento il punti giocatore. Altrimenti, quindi nel primo caso il giocatore ha sballato, nel secondo caso il banco ha sballato, nel terzo caso nessuno dei due ha sballato, e allora vado a vedere, vado a confrontare i punteggi. Quando è che il giocatore può vincere? quando le carte del giocatore sono maggiori del punteggio delle carte del banco. Allora in questo caso ha vinto il giocatore, quindi coppio queste due righe, in caso inverso, nell'ultimo caso, allora avrà vinto di nuovo il banco. Quindi in questo caso, diciamo così, il terzo caso è nessuno ha sballato, giocatore più punti, mentre nell'ultimo caso, nessuno ha sballato, e il banco ha più punti, oppure gli stessi punti. Quindi in questo caso, se le carte banco è uguale o maggiore delle carte giocatore. Quindi questa è la parte di logica che assegna il punteggio. L'abbiamo implementata così. Vedete che questa parte qua aggiorna punti banco e punti giocatore, incrementando l'uno o l'altro opportunamente, e si basa solamente su queste due informazioni. La somma dei punti delle carte del giocatore, e la somma dei punti delle carte del banco. Chiaramente queste variabili sono ancora rosse, perché non avendo ancora noi scritto le parti precedenti del programma, non le abbiamo ancora definite. Però questo è il lavoro che gli faremo fare. Ok. A questo punto si passa alla mano successiva, volendo. Passa alla mano successiva, possiamo, costruiamo il loop più esterno, in cui, diciamo, creiamo un ciclo while, usiamo una variabile che ci dica quando vogliamo giocare o quando siamo stufi giocare, e quindi possiamo dire ancora. E la variabile ancora sarà una variabile booleana, una variabile logica, quindi se usiamo a true, diciamo, decide quando terminare il gioco. Quindi per ora questo è ancora uguale a true, non sto facendo nulla per mettere la falsa, per il momento dovrò chiedere al giocatore in fondo se vuole terminare o no, però finché è true il gioco va avanti, diciamo così, all'infinito. A questo punto abbiamo questa parte qui in cui dobbiamo implementare effettivamente il gioco. Il gioco è una singola mano che è fatta appunto da facciamo giocare prima il giocatore e poi giocare il banco. Facciamo giocare il giocatore. che è la parte più facile. Allora, cosa vuol dire questa parte qui? Adesso in questo momento siamo concentrati su una funzionalità. Voglio far giocare il giocatore. Questa parte di codice che abbiamo già scritto, fatemi tornare indietro un attimo, implementa questa regola qua, questa slide. La fine del gioco si decide chi vince. Ed è questa parte di codice. che viene ovviamente dopo aver giocato la partita e quindi a questo punto dobbiamo implementare questa parte del gioco. Quella che qui è chiamata la fase 2 e la fase 3. Dà le carte al giocatore e permette al giocatore di andare avanti oppure fermarsi. Allora, noi all'inizio al giocatore non ha nessuna carta e dobbiamo dare due carte. Quindi noi possiamo inizializzare le carte giocatore a 0 così come quando giocherà il banco inizializzeremo le carte banco a 0. Questo punteggio parte da 0 e poi e poi lo incrementeremo man mano che daremo una carta. Quindi io devo dare la prima carta al giocatore devo dare la seconda carta perché nel testo c'è scritto che due carte le devo dare poi devo chiedere se vuole altre carte e se sì dare la carta successive. Ok? Allora, dare una carta cosa significa? Significa estrarre un numero casuale tra 1 e 10. Come faccio a estrarre un numero casuale? Ad esempio nelle librerie di Python esiste un modulo che si chiama random quindi se noi importiamo il modulo random abbiamo varie funzioni che ci permettono di estrarre dei numeri casuali ad esempio vedete che qua ci sono tutte scrivendo random punto lui con l'autocompletamento mi fa vedere tutte le varie funzioni del modulo random quella che ci può interessare è questa che si chiama randint adesso come si fa vediamo aspetta randint vediamo andiamo sulla documentazione apro la pagina web con la documentazione che dice la funzione randint del modulo random restituisce un numero intero casuale n compreso tra a e b dove a e b sono estremi compresi attenzione che questa è un po' un'eccezione rispetto alla regola generale in cui il limite superiore è quasi sempre escluso e infatti dice guarda questo qui è la stessa cosa che se tu scrivessi randrange a b più 1 perché la funzione randrange che è spiegata subito sopra ti dice ristituisce un elemento scelto a caso da un range definito come se lo costruisci con la funzione range dove start e stop sono il punto di partenza compreso il punto di arrivo escluso quindi sono due modi diversi di costruire lo stesso numero casuale io posso dire che la carta che ho estratto torno qui al codice la carta che ho estratto è un numero casuale tra 1 e 10 estremi compresi oppure posso scrivere che la carta che estraggo è un numero casuale randrange tra 1 compreso e 11 escluso oppure potrei farmi del male e usare la funzione se non sbaglio random più avanti esatto c'è una funzione random che restituisce semplicemente un numero reale tra 0 e 1 allora se non mi ricordassi che c'è la randint io potrei scrivere carta uguale uguale random punto random questa random mi restituisce un valore tra 0 e 1 io in realtà lo voglio tra 1 e 10 e quindi devo moltiplicare per 10 e sommare 1 questo è un numero reale e lo devo convertire in intero e quindi fare una cosa così tutte e tre le cose fanno esattamente ottengono esattamente lo stesso risultato di estrarre un numero casuale tra 1 e 10 chiaramente la prima è la più semplice ma se non me lo ricordo un numero generatore tutte queste funzioni si basano sulla funzione più semplice che questa qua questa random che mi dà un valore tra 0 e 1 poi questo valore lo possiamo spalmare su un intervallo diverso semplicemente moltiplicando per l'ampiezza dell'intervallo e sommando il valore di partenza quindi un intervallo 0 e 1 diventa un intervallo 1 e 10 perché ci sommo 1 in partenza e perché moltiplico 10 al valore intero che ottengo ma diciamo che la più semplice è la prima no? Randint quindi ho scelto una carta e dirò all'utente cosa dirò all'utente? dirò all'utente che la sua carta è questa print hai pescato una carta e questa è la prima poi gli darò la seconda carta subito dopo con lo stesso meccanismo ovviamente quando pesco la seconda carta dovrò ottenere traccia dei punti che ho accumulato quindi quando io pesco la prima carta carte giocatore il valore dei punteggi delle carte mi ricordo conto i punti di questa prima carta poi faccio pescare la seconda carta quindi estraggo nuovamente un altro numero random lo posso mettere nella stessa variabile perché ormai questa variabile qui carta non mi serve più perché non mi serve più perché l'ho già stampata per l'utente e il suo valore l'ho già tenuto conto nel totale delle carte e quindi posso poi dire caro giocatore come seconda carta hai pescato questa e ne tengo conto carta giocatore uguale carta giocatore più la carta appena estratta ok quindi abbiamo pescato una carta carta giocatore uguale a carta pescato la seconda e l'abbiamo sommata adesso comincia il gioco vero e proprio il giocatore deve decidere se fermarsi qui oppure continuare chiedi se vuoi delle altre carte allora chiedi se vuoi delle altre carte sarà semplicemente una input in cui chiedo aspetta la risposta risposta uguale input chiedo se vuoi continuare o fermarti continuare a fermarti se usiamo le definizioni che sono date sulla slide fermarsi deve inserire stay e invece continuare deve inserire hit quindi se vuoi continuare hit o fermarti stay adesso per il momento non facciamo ipotizziamo che l'utente scrive sempre le parole corrette la gestione dell'errore la aggiungiamo in un secondo momento e se lui mi dice stay non ho nulla da fare proseguo vado avanti perché a questo punto ho il valore delle carte giocatore se invece lui mi restituisce hit io devo chiedere un'altra carta che sarebbe a questo punto la terza però il codice che dovrò fare per gestire la terza carta è identico a quello che devo fare per gestire la seconda quindi questo dare le carte successive significa in realtà tornare sulla riga 25 e ripeti le stesse cose che hai fatto per dare la seconda carta quindi darai una terza carta sommerai i punti e poi chiederai di nuovo all'utente se vuole continuare oppure no quindi in realtà questo dare le carte successive mi dice che questo codice qui va incluso in un ciclo un ciclo che continuerà a dare carte fino a quando l'utente scriverà it quindi per farlo semplice possiamo indicare un ciclo while risposta uguale it finché la risposta è it ripeti giusto? quindi cosa succede andiamo in ordine do la prima carta poi do la seconda carta questo lo faccio sempre leggo la risposta e se la risposta è it darò di nuovo un'altra carta richiedere una domanda eccetera se invece la risposta fosse stay si interrompe l'unica attenzione che devo fare è che visto che qui inizializzo una variabile risposta che testo alla riga 31 che testerò alla riga 24 devo ricordarmi per la prima volta di impostare a it per permettermi di entrare obbligo ad entrare nel ciclo la prima volta questo è uno dei 100 modi in cui si può fare questa funzionalità per carità la inizializzo in modo che la prima volta vedo risposta uguale a it e effettivamente entro perché do la seconda carta ricordiamoci che la seconda carta sono obbligato a darla quindi è giusto che entri forzatamente nel ciclo la prima volta poi le volte successive continuerò solamente se l'utente ha risposto effettivamente it ok allora vediamo se funziona nel senso che magari possiamo fare una cosa aggiungere qua dove determina il vincitore una print che ci dica che il giocatore quanti punti ha carte giocatore e il banco quanti punti ha carte banco così vediamo cosa succede io proverai a far partire questo programma vediamo cosa succede allora dice hai pescato 9 hai pescato 7 vuoi continuare o fermarti diciamo che voglio continuare ho pescato 2 allora 9 più 7 fa 16 più 2 18 ho deciso di fermarmi stay e mi dice che il mio punteggio è 18 lo sapevo già ho già fatto i conti a mente il banco vabbè 0 perché non l'abbiamo ancora fatto e quindi hai vinto e poi dopo che dice hai vinto ricomincia una partita nuova qui non abbiamo ancora la parte in cui mi chiede se voglio fare un'altra mano oppure no semplicemente lo ricomincia perché c'è questo while ancora che lo trova true e quindi fa un'iterazione successiva e quindi in questo caso 3 più 4 fa 7 prendo un'altra carta in più 7 più 8 fa 15 15 15 più 5 fa 20 non affermiamoci e quindi ho fatto 20 il banco 0 di nuovo ho vinto e va avanti così in realtà manca ancora una logica che è cosa succede se io supero il 21 quindi 8 più 6 8 più 6 fa 14 più 3 fa 17 prendo ancora carta mi arriva un 6 17 più 6 fa 23 e il programma non deve chiedermi se voglio continuare se ho fatto 23 ho sballato e quindi devo uscire semplicemente quindi devo aggiungere questo controllo questa logica è una logica semplice che dice ok finché vuoi andare avanti ti do carte ma in realtà noi dobbiamo tenere conto che puoi andare avanti solamente se non hai ancora raggiunto non hai superato il 21 quindi questo come lo possiamo fare chiedi se vuole altre carte solo se non ha sballato quindi prima controlliamo se hai sballato allora nel caso in cui abbiamo sballato sei obbligato a lasciare quindi diciamo che prima di tutto controlliamo se carta giocatore è maggiore di 21 allora dirò al mio giocatore hai sballato e metterò la risposta a stay così in questo modo forzo l'uscita dal ciclo altrimenti solo se non ho sballato posso fare questa richiesta ovviamente questa input non devo farla se lui ha sballato allora proviamo con questa modifica a vedere se mi gestisce anche lo sballo dell'utente quindi ho pescato 3 ho pescato 1 queste sono arrivate carte piccole 2 3 più 1 4 più 2 6 6 più 7 fa 14 14 più 6 fa 20 e quindi una persona sana di mente si fermerebbe io invece voglio ancora un'altra carta mi arriva un 7 hai sballato e poi arriva a calcolare il punteggio finale il giocatore 26 banco 0 in questo caso vince il banco perché il giocatore ha sballato anche se il 26 è maggiore di 0 ho i controlli prima che verificano che se il giocatore è sballato facciamo vincere il banco quindi diciamo che funziona questa logica e quindi la logica di gioca il giocatore essenzialmente è completa possiamo passare possiamo passare allora alla logica del banco che funzionerà in un modo analogo quindi magari solamente per ragioni estetiche quando gioca il giocatore possiamo mettere una print tocca al giocatore tocca a te e poi sotto diciamo tocca al banco così si capisce un po' meglio dagli output che cosa succede tocca al banco quindi qui useremo una logica analoga do una carta carta uguale random punto randint 1.10 dico che carta ho preso quindi mentre prima dicevo hai pescato carta il banco dirà ho pescato una carta la prima carta e poi ci sarà la pesca ovviamente carta e banco la inizializzo al valore della carta che ho appena pescato la prima e poi c'è il ciclo in cui il banco decide di andare avanti a questo punto non deve chiedere all'utente ma deve semplicemente decidere sulla base delle sue strategie quindi quando è che deve andare avanti finché a pescare carte finché carte banco è minore di 17 questa è la strategia stupida ok che che era riassunta in questa slide se la somma è minore di 17 devo prendere un'altra carta se è maggiore di 17 devo fermarmi se è maggiore di 21 a maggior ragione devo fermarmi tanto poi noi abbiamo la logica alla fine che dice che se è maggiore di 21 automaticamente ho perso quindi per il momento tutta questa logica è semplicemente riassunta così se ho un valore minore di 17 mi fermo scusate continuo a pescare quindi pescherò una nuova carta random randint 1 10 dico cosa ho pescato e incremento le carte carta banco uguale carta va carte banco più carta quindi io esco da questo ciclo wild sicuramente quando le carte banco sono un numero che è maggiore uguale a 17 ovviamente se è 17 18 19 20 21 ho una chance di giocarmela se invece fosse maggiore di 21 perché può saltare fuori che questa somma dia un valore maggiore di 21 e quando qualche righe sotto determino il vincitore ovviamente non sarò io il vincitore essenzialmente quindi proviamo questa parte allora torno su faccio run tocca a te allora cerco di giocare bene ho pescato 6 ho pescato 5 quindi ho 11 prendiamo un'altra carta 11 più 3 fa 14 beh proviamo a fermarci vediamo cosa gioca lui allora lui ovviamente lui è veloce tocca al banco lui ha pescato un 1 4 poi un 7 poi un 6 1 più 4 5 5 7 12 12 6 18 noi sappiamo che lui 18 è maggiore di 17 quindi si ferma infatti alla fine della partita il riepilogo è che il giocatore ha fatto 14 il banco ha fatto 18 e vince il banco e partita successiva 8 più 9 8 più 9 fa già 17 fermiamoci qua lui che cosa fa? pesca 2 4 4 4 6 6 e fa 19 questo maledetto ha di nuovo vinto lui 4 7 11 prendiamo ancora una 11 più 9 fa 20 dai questa volta vinciamo no lui ha pescato un 2 un 10 un 9 ha fatto 21 ha di nuovo vinto lui non sono ancora riuscito a vincere una volta volevo solo provare una cosa c'è una parte del programma che non funziona poi rivediamo il codice insieme allora 9 più 3 12 prendo una carta fa 15 ne prendo un'altra ho sballato ho pescato un 10 15 più 10 fa 25 adesso in realtà quello che volevo farvi vedere è che anche se io ho sballato il banco sta giocando lo stesso in realtà le regole del gioco dicevano che il banco gioca se il giocatore non ha sballato ok quindi tutta la parte di programma in cui gioca il giocatore devo farla solamente se se il giocatore non ha sballato torniamo al codice tutta questa parte in cui gioca il banco che in realtà sono queste istruzioni qui dalla 41 alla 52 mi sono accorto che devo farla solamente se il giocatore non ha sballato quindi se solamente se carta giocatore è minore o uguale di 21 allora se non ha sballato faccio questa parte altrimenti questa parte la salto di brutto la salto e tornerò andrò a determinare il vincitore quindi qua avrò queste 4 casistiche quindi se il giocatore ha sballato io so già che il banco non ha giocato in questo caso e vince diciamo così l'ufficio in automatico se invece il giocatore non ha sballato allora possiamo avere queste 3 possibilità ha sballato il banco oppure nessuno dei due ha sballato allora vado a confrontare i punti vedete che se sballa il giocatore non guardo neanche i punti del banco se sballa il banco non guardo i punti del giocatore solo se entrambi non hanno sballato allora effettivamente mi interessa quanti punti hanno nello specifico ok allora vediamo con questa aggiunta allora vediamo di giocare bene hai pescato 2 hai pescato 5 sono 7 7 più 6 13 prendo ancora una carta 13 più 7 20 mi fermo il banco ha pescato oh sembra quasi truccato questo gioco perché questo banco vince un po' troppo facilmente noi sappiamo che non è truccato perché sappiamo che i numeri vengono stati semplicemente con un random ma diciamo dobbiamo proprio fidarci ci fidiamo perché l'abbiamo scritto noi se l'avessi scritto qualcun altro questo programma io avrei cominciato a pensare che era truccato invece no ha vinto lui tocca di nuovo a me 9 più 5 14 proviamo a prendere un'altra ho pescato 10 ho sballato ho fatto 24 ecco qui e c'è un baco già un errore nel programma perché mi dice che il banco ha 21 in realtà non è vero che il banco ha 21 il banco non ha giocato quindi a 0 poi non importa perché vince comunque lui perché io ho sballato ma questo valore 21 è sbagliato perché ho dimenticato probabilmente di mettere a 0 carte banco e infatti qua vedi che carte banco lo metto a 0 solo se lui sta giocando in realtà dovrei rimettere a 0 fuori da questo if in modo che ovviamente quando è il suo turno parte da 0 poi se non gioca rimarrà a 0 questo numero perché il problema è che se rimane 21 al giro successivo lui vince di scuro anche se io non sballassi perché si ricorda il punteggio precedente quindi questa è una piccola correzione da fare ecco direi che la partita è completa bisogna solo gestire ancora la visualizzazione del punteggio totale perché noi questi punti giocatore punti banco li stiamo contando secondo noi li stiamo contando giusti ma per il momento non li abbiamo mai stampati quindi non li abbiamo ancora visti e così come questo ancora vogliamo farlo diventare falso prima o poi e quindi alla fine potremmo dire dopo che ho calcolato i vari punteggi posso mettere una bella print che riassume il punteggio punteggio attuale giocatore ha come l'ho scritto prima giocatore due punti e metto i punti giocatore che è diverso dalle carte giocatore a mettereci la NF string punti giocatore e invece il banco ha punti banco e poi potrò chiedere se vuoi giocare ancora vuoi continuare? sì no se la risposta uguale no allora semplicemente metto ancora false quindi so che devo uscire e poi alla fine potrò dire il vincitore assoluto se è il banco o il giocatore quindi andrò potrò stampare un messaggio di commiato che dice se punti giocatore è maggiore di punti banco quindi ho vinto il giocatore ha vinto più mani rispetto al banco print sei il campione altrimenti punti giocatore uguale ai punti del banco allora dirò avete pareggiato e in ultima analisi purtroppo dobbiamo dire che ha vinto lui ci abbiamo perso ti ho battuto anche questa volta perché si sa i computer non hanno pietà né gentilezza quindi cosa sto facendo qua semplicemente se lui non vuole continuare vado ad analizzare il punteggio totale che è stato raggiunto e di fatto vado decido quale messaggio finale stampare ma la cosa essenziale è questa risposta uguale input e ancora uguale false perché quando ancora uguale false il ciclo while non verrà più ripetuto e quindi a questo while sopra non farò più ulteriori mani questa queste tre queste scusate queste tre righe queste tre istruzioni queste tre if io le ho messe qui dentro dentro questa if che sono ancora dentro il while volendo potrei mettere tranquillamente fuori dal while cioè dopo che il ciclo while si è concluso è lo stesso in ogni caso è l'ultima cosa che fa il programma prima di terminare allora vediamo se funziona riavviamolo quando il programma si blocca su un input allora ok tocca a te hai spescato 7 hai spescato 3 andiamo avanti hit 3 più 1 sono 11 ando avanti ancora 1 e qui poi arriva la batosta sono 12 più 10 ho sbagliato beh grazie giocatore ecco qua quella parte che abbiamo aggiunto punteggio attuale giocatore 0 banco 1 vuoi continuare? sì perché voglio rifarmi tocca a te hai pescato 9 9 più 4 13 andiamo avanti 13 più 6 19 va bene mi fermo il giocatore cosa fa? pesca 1 2 5 5 5 arriva a 19 è maggiore di 17 visto per la regola del pareggio ha vinto lui andiamo avanti 12 hit 2 6 quindi 2 più 2 4 più 6 10 ne prendo ancora una ah no c'era un 10 che non avevo visto maledizione e quindi ho sballato ovviamente e quindi per la terza volta vince il banco mi sono stancato vuoi continuare? no ti ho battuto anche questa volta e quindi sembra adesso diciamo che è facile provare il programma e far vincere quando vince il computer e quindi abbiamo visto che questa parte qua funziona dovremmo giocare un po' di volte per riuscire a vincere anche noi per verificare che effettivamente questa parte se è il campione funziona anche lei perché magari potremmo aver sbagliato qualche cosa in una parte del programma che non viene eseguita allora Davide mi chiedeva di vedere la Liga 52 non so se la Liga 52 dove c'è il while questa qui questo è il blocco 50-53 è il blocco dove ci sono dove c'è la logica di gioco del computer che in questo caso è molto molto semplice qui volendo potremmo complicarlo ovviamente nel senso che magari non ci sta più in un'unica condizione del while ma potremmo mettere tutta una serie di if di controlli in cui il computer decide se andare avanti oppure no quindi se va avanti potremmo dire ad esempio che lui si può fermare visto che gioca dopo il giocatore se per caso le carte banco sono già maggiori di quelle del giocatore si può fermare quindi qui potrebbe fermare il while mi dice quando devo giocare allora io gioco quando le carte le mie carte sono minori di 17 ma anche quando e le mie carte magari possono essere ancora minori di quelle del giocatore perché se fosse già uguale o maggiore del giocatore anche se è minori di 17 ha senso che mi fermi perché ormai ho già vinto non ha senso continuare a rischiare di sballare però vabbè da qua si possono fare tutti i miglioramenti possibili alcune cose si possono fare semplicemente rendendo più complessa più articolata questa condizione del while altre cose invece non ci stanno nella condizione del while allora dovrò fare diciamo così dei calcoli sotto dentro il ciclo del while faccio dei calcoli per decidere se ha senso o no continuare quindi avrò una variabile booleana una variabile logica forse che mi dice voglio ancora una carta oppure non la voglio sulla base dei calcoli che ho fatto dunque Francesco mi chiede se posso condividere il codice sicuramente sì ve lo mando sia su Slack che poi lo metto come sempre sulle pagine del corso voi sapete che alla fine di ogni settimana se andiamo qua nella parte di registro delle lezioni vedete che alla fine di ogni settimana c'è questo zip che contiene tutti i file della settimana quindi ve lo trovate anche lì ma ve lo metto tranquillamente su Slack dunque per rispondere alle altre domande se invece avessimo solo 4 possibilità di pescare un numero con un mazzo normale di carte come dovremmo modificare il randint allora non si può fare semplicemente con randint randint è un generatore casuale come si dice senza memoria nel senso che ogni volta che genera un valore lo genera da zero senza pensare a quali valori precedenti sono stati generati per poter generare dei valori che tengono conto anche delle carte passate io dovrei sapere quanti uno sono usciti quanti due sono usciti quanti tre sono usciti e così via questo lo potremo fare solamente quando vedremo delle strutture dati più ad esempio per gestire un elenco di numeri cioè quante volte è uscito il 3 quante volte è uscito il 4 e così via quindi quando faremo le liste quando faremo la struttura dati a liste potremo proprio memorizzare il mazzo e dire scegli una carta casuale del mazzo al momento non avendo ancora diciamo così la conoscenza di come si gestiscono le liste non possiamo tenere a conto di queste diciamo così diverse probabilità se non con una lunga sfizia di if ma o avendo dieci variabili diverse quanti uni sono usciti quanti due sono usciti quanti tre sono usciti che chiaramente non ha senso non ci avventuriamo neppure in questa via sapendo che poi c'è una soluzione migliore Germana mi chiede se alla fine di un anno la somma delle carte è uguale cosa succede? succede che vince il banco perché qui alla riga 64 mi dice che nessuno di due è sballato ovviamente se le carte del giocatore sono strettamente maggiori delle carte del banco allora vince il giocatore in tutti gli altri casi quindi se sono uguali i punteggi oppure se il banco ha più punti allora vince il banco quindi questo maggiore e non maggiore uguale mi dice che se i punti sono i punti di una mano nel caso di ugualianza vince il banco se mettessi un maggiore uguale qua allora nel caso di ugualianza vincerebbe il giocatore oppure potremmo inventarci un'altra regola che in caso di pareggio il punto non lo prende nessuno però le slide la specifica ci diceva chiaramente che in caso di pareggio deve vincere il banco se in caso di parità vince il banco quindi questo è ciò che abbiamo implementato ma lo gestiamo tutto essenzialmente su questa linea poi Michele mi chiede portare nella parte while ancora lassù qui all'inizio questo è l'inizio del programma sono le primissime righe ho azzerato i punti per iniziare la partita ho messo ancora uguale true e poi semplicemente while ancora che comprende tutto il resto del programma da questo while e uscirò quando qualcuno metterà a falso la variabile ancora e questo fa la controparte con le ultime righe del programma in cui se la risposta è no allora metto a falso la variabile ancora che è quella che mi causa l'uscita dal ciclo alla riga 11 quindi quella assegnazione ancora uguale a falso della riga 74 si collega direttamente con la riga 11 dove c'è dove si viene controllato il valore di quella variabile ok adesso poi tranquilli che vi condivido il file quindi lo potete guardare con calma Giulio mi chiede le condizioni per non far sballare il giocatore allora vediamo un po' qua questa è la parte del giocatore quindi io semplicemente estrago una carta aggiorno il punteggio e poi mi chiedo ok questo punteggio mi ha già fatto sballare o no? se mi ha fatto sballare allora dico che ho sballato e forzo la risposta stai dico il giocatore senti fermo forzosamente devo fermarmi non posso andare avanti e quindi non chiedo neppure al giocatore se vuole la prossima carta se invece la carta del giocatore è minore o uguale 21 quindi anche con 21 stranamente chiedo al giocatore se vuole continuare in realtà con 21 mi devo fermare per forza però non lo sto trattando come caso particolare solo se minore o uguale a 21 il punteggio attuale delle carte del giocatore allora chiederò questo input sulla base del quale ovviamente deciderò se pescare ancora una carta oppure no ok allora io vi posso mandare la versione attuale che abbiamo ve la metto ve la ve la incollo qua poi magari la pacciocchiamo ancora vi mando poi quella definitiva c'è un commento di Luca poco sopra che dice non sarebbe meglio visualizzare la carta che ha il banco prima di dover scegliere se chiamare ancora carte e si hai ragione è un pezzo che ci siamo dimenticati perché le regole del gioco dicevano proprio così nella fase 1 il computer si dà una carta e la fa vedere al giocatore quindi la prima carta del computer in realtà la devo estrarre prima di far giocare al giocatore quindi in realtà noi questa parte qui errore mio non ci avevo più pensato non l'abbiamo implementata perché abbiamo detto ok gioca prima il giocatore quindi implementiamo il giocatore poi implementiamo il computer in realtà quando gioca al computer la sua prima carta è già stata estratta ok quindi dobbiamo andare a modificare questo grazie a Luca per la segnalazione non è particolarmente complicato per fortuna perché basterà questa è la dunque siamo nella gioca al banco questa è la prima carta del banco la prima carta del banco quindi scriviamo un commento quindi ci ricordiamo cosa stiamo facendo quindi il banco estrae la prima carta e poi va avanti quindi ci è sufficiente che queste tre righe qua di codice le anticipiamo a prima dei giochi del giocatore prima che il giocatore giochi ovviamente ovviamente questo si porta dietro anche la modifica della riga 41 perché se io prima estraggo la carta ho già un valore dentro carta e banco che ce l'avrò già dalle righe precedenti del programma e non posso azzerarla di nuovo la 41 se no mi perdo il valore di questa carta quindi operazione 1 tolgo questo blocco di codice da qui vado su a prima del gioco del giocatore quindi quando c'è scritto gioco al giocatore avrò una parte prima che corrisponde nel estrae la prima carta vabbè ce l'abbiamo scritto nel commento un attimo fa il banco estrae la prima carta e quindi diciamo il banco ho pescato una certa carta e la inizializza direttamente cioè tiene conto già di questa carta nel computo della somma delle carte del banco poi tocca a te e giocherai tu e poi a questo punto il giocatore riprende il banco riprende dove siamo carta del banco tolgo questo carta del banco uguale a zero perché carta del banco a questo punto ha già un valore che abbiamo determinato nell'estrazione casuale di sopra quindi questo lo tolgo ovviamente tocca al banco e possiamo poi ricordarci che avevo già una certa carta quindi la scriviamo carta del banco ecco ok allora così dovrebbe funzionare proviamoci allora banco ho pescato 10 quel 10 rimane da parte adesso tocca a me 4 7 11 proviamo a prendere un'altra carta 11 più 8 19 mi fermo adesso quando gioca il banco mi dice tocca al banco avevo già 10 ovviamente questo 10 qua è uguale a quel 10 là e poi va avanti ho pescato 5 che si sommando i 10 fa 15 più 8 fa 23 e quindi il banco sballa e ho vinto io finalmente ho vinto una volta giocatore 1 banco 0 vuoi continuare? continuo la seconda volta per essere sicuro di avere correttamente azzerato le varie variabili banco ho pescato 2 1 più 8 mi fermiamoci intanto adesso ho aperto testare il programma tocca al banco avevo già 2 quindi giustamente quello che ha pescato se lo ricorda c'è sempre il rischio quando sono in un ciclo che nell'iterazione successiva del ciclo mi si è dimenticato magari di inizializzare qualche variabile quindi c'è il rischio che riusi il valore vecchio dell'iterazione precedente invece in questo caso funziona quindi qua mi sono fermato io con 9 e giustamente lui ha vinto perché gli è bastato vincere con 12 ha vinto con 12 ce lo ricordiamo perché noi abbiamo aggiunto poco fa la clausola fermati se superi il 17 ma fermati anche se raggiungi il punteggio del giocatore qua alla riga 50 e quindi questo ha fatto sì che lui si fosse fermato a 12 perché il suo 12 era già superiore al mio 9 non ha cercato di arrivare al 17 quindi questa ci vogliamo già una strategia più intelligente di quella che c'è sulle slide vuoi continuare no avete pareggiato ok c'è una domanda ancora se non ci sono domande in realtà dobbiamo fare perché diciamo il programma sia un po' completo un po' robusto dovremmo cominciare a questo punto ad aggiungere tutta una serie di controlli sulla lettura dei dati cioè cosa succede se l'utente qui in questo andiamo a cercare le varie input perché è dove ci sono le grane la prima input l'utente deve scrivere it oppure stay e se non scrive it o non scrive stay che cosa succede per come abbiamo implementato noi il codice se scrive it gli danno una carta qualunque altra cosa lui risponda è come se dicesse stay ci può andare bene non ci può andare bene se it lo scrivesse in maiuscolo non viene riconosciuto quindi dovremmo chiederci essenzialmente vari modi in cui questo può essere controllato e quali valori diciamo riaccettare adesso questo funziona in modo estremamente grezzo cioè se scrivo esattamente it in minuscolo va avanti qualunque altra cosa io scriva si ferma possiamo cominciare a migliorarlo ad esempio innanzitutto possiamo dire questo input mettiamolo subito in minuscolo quindi l'input qualunque cosa che abbia scritto prima di memorizzarlo dentro risposta lo converto in minuscolo semplicemente ricordate che l'input restituisce una stringa in una stringa posso applicare qualunque metodo delle stringhe compreso ad esempio lower che lo mette in minuscolo e poi se per caso lui non scrivesse né it né stay dovrei in qualche modo dirgli no guarda non hai scritto bene per favore ripeti quindi dovrei ripetere questo input finché il valore inserito non sia esattamente quello corretto allora devo scrivere while risp non è esattamente it e risp non è esattamente stay allora dovrò dire ripeti valore non ammesso diciamo così f valore risp non ammesso ripeti e ripeto questa input quindi in qualche modo adesso lo proviamo subito mi obbligo ad uscire da questo ciclo while solamente con la certezza che la risposta è una di queste due a meno di maiuscole e minuscole che ho comunque ci hanno convertito quindi se la scrivessi in maiuscolo andrebbe bene lo stesso quindi se provo a fare un run di questo se anziché it o stay scrivo ttt lui mi dice che il valore ttt non è ammesso ripeti allora scrivo it va bene se scrivessi it maiuscolo vabbè ho sballato ma comunque me l'ha preso se scrivo stay st non va bene scrivo stay invece va bene mi fa fermare quindi in qualche modo ho aggiunto un controllo sull'ingresso sull'input della it bar stay poi ci sono altri input nel nostro programma sì c'è un altro qua sul vuoi continuare sì no e anche qua dovrei fare la stessa cosa quindi se la risposta è diversa da sì è la risposta anche qua magari mettiamolo in minuscolo punto lower e la risposta è diversa da no sull'altro nome if while perché ci può capitare più volte anche se la risposta è diversa da sì è diversa da no allora vabbè qui posso semplicemente rifare la input senza mettere nessun messaggio ripeti vuoi continuare non si è capito quindi in questo caso abbiamo questo piccolo blocco quindi una operazione di input viene sostituita da un piccolo ciclo while che mi garantisce che alla fine del while il dato letto sia il dato corretto e a questo punto posso analizzare il significato di questo dato era un sì o era un no e allora se era no faccio cose quindi in qualche modo questo diciamo così questo pattern di programmazione è abbastanza ricorrente ogni volta che leggo un dato subito dopo gli metto magari un ciclo in cui finché non sono sicuro che quel dato sia corretto continuo a chiederlo e qui di fatto ci metto le condizioni di errore finché no questo è sbagliato no sì è giusto scusate RISP è diverso da S e è diverso da no per rendere questa condizione falsa quindi il caso normale se l'utente inserisce S questa parte è falsa la risposta se io ho inserito S non è diversa da S e quindi questa parte è falsa e non entra nel ciclo while viceversa se l'utente inserisce un'altra lettera la X allora questa parte risposta diversa da S è vera perché la X è diversa da S questa parte anch'essa è vera perché la X è diversa da N e quindi poiché ho un end tra due parti che sono entrambe vere tutta la while vede una condizione vera e quindi entra nel ciclo e mi rifà la domanda quindi anche in questo caso se rilanciamo il programma ci fermiamo subito alla domanda vuoi continuare scrivo qualcosa di sbagliato oppure semplicemente batto invio scrivo invio senza nulla quindi di fatto sto inserendo una stringa vuota lui me lo richiede fino a quando non inserisco una S oppure una oppure un N per uscire in questo caso era relativamente facile perché avevamo due input soli dove il valore che volevamo leggere erano due stringhe predefinite diventa più complicato quando dovessi controllare leggere dei valori numerici quindi devo andare a vedere non solamente se si può convertire il numero ma anche il valore minimo e il valore massimo se sono coerenti oppure se fossero stringhe che devono essere in un certo formato quindi non necessariamente S o N ma una qualunque stringa di tre lettere che contenga un numero su interno dipenderà ovviamente dai casi allora il pattern è sempre lo stesso leggo un dato e poi ho un ciclo che ripete le letture del dato tutte le volte che trova che la formattazione di quel dato non è corretta a questo proposito c'è una parte del diciamo così delle slide che noi chiaramente non abbiamo ancora fatto la vedremo a parte la settimana prossima alcune cose le abbiamo già viste con il ragionamento con gli esempi dove ci aiuta a capire come fare a capire se una string è fatta come vorremmo quindi un po' di approfondimento sulle funzioni di elaborazione delle stringhe noi abbiamo visto alcune funzioni semplici che erano quelle già predefinite tipo il find tipo il count che permettevano di fare una prima minima analisi delle stringhe però se dovessimo fare un'analisi di tipo diverso quindi contare il numero di lettere maiuscole che c'è dentro con il count semplicemente non si può fare e allora lo possiamo fare carattere per carattere e quindi adesso che conosciamo i cicli cosa che prima non conoscevamo quando abbiamo visto le funzioni sulle stringhe e i metodi sulle stringhe adesso conosciamo i cicli possiamo anche decidere di costruirci noi un ciclo che vada a fare l'analisi che ci serve all'interno dei singoli caratteri della stringa però questo lo vediamo insieme diciamo così negli esercizi che faremo a partire dalla settimana prossima ci sono altre domande una osservazione una domanda che mi faccio da solo io in questo caso avrei potuto dico così anche ricordarmi con una variabile logica con un flag se l'utente è sballato oppure non ha sballato io nella parte di determinare vincitore ho cercato di fare la soluzione che fosse più semplice in assoluta per me quindi mi bastano queste due informazioni il punto dell'uno e il punto dell'altro magari qualcuno potrebbe aver pensato ma a me serve anche magari mi conviene usare una variabile logica tipo giocatore sballato e banco sballato che sia true o false e allora vado poi a decidere anche sulla base di queste condizioni e quindi questo giocatore sballato l'avrei messo tranquillamente qui avrei messo qua dove c'era il sballato avrei messo giocatore sballato uguale true e poi nella fase di controllo del punteggio sarei andato a vedere anche queste variabili logiche nel caso nel nostro caso dove era la condizione era abbastanza semplice per cui non ho ritenuto il caso introdurre una variabile in più forse avrebbe complicato il codice però è chiaro che se la condizione ho sbagliato o non ho sballato fosse una condizione molto più complicata quindi magari come nel gioco vero nel senso che se tu prendi due assi che in realtà farebbe 22 il punteggio è un punto speciale che ti dà il doppio della vincita e quindi ci sono delle eccezioni ci sono dei casi particolari allora in quel caso avrebbe probabilmente avuto senso sarebbe stato conveniente definire delle variabili logiche che si ricordavano le varie se tizio ha sballato se tizio ha abbandonato se tizio ha fatto una combinazione speciale me lo ricordo con delle variabili logiche vero o falso senza dover ogni volta andare a rifare il ragionamento perché vedete che questo controllo con 21 lo stiamo facendo più volte senza rifare ogni volta il ragionamento che già avevo fatto quando avevo scoperto che l'utente aveva sballato quindi può essere sicuramente così più complicato così come può essere reso più complicato e lo chiudo con questa dove è andato a finire scusate qui ci sono alcuni suggerimenti che vi ho fatto rapidamente vedere all'inizio se questo codice se questo programma l'avete risolto potete complicarlo un pochino in più adesso qui c'è una sul discorso della probabilità fa una prima approssimazione in cui dice i mazzi non sono infiniti ma sono solo n però non stiamo ancora contando le singole carte per contare le singole carte vi chiedo se volete aspettiamo due settimane quando conosceremo le liste e poi riusciremo a farlo molto più facilmente estraendo la vera la vera carta mentre una cosa carina potrebbe essere quella dell'asso che può nel gioco reale puoi decidere se farlo valere 1 oppure 11 e quindi quando hai un 1 e un 10 quello fa 21 già puoi decidere che l'1 l'asso valga 11 11 più 10 fa 21 però questo lo deve decidere il giocatore nel momento in cui riceve l'asso quindi c'è un po' di interazione in più in cui il giocatore riceve un asso e gli dice senti vuoi che questo valga 1 o valga 11 e quindi ne tieni conto in modo diverso questa è una cosa che si può fare complica un pochino la logica oppure è più complicato a giocare con più giocatori allora a questo punto non solamente il giocatore e il banco ma il giocatore 1 giocatore 2 giocatore 3 anche questo adesso diventerebbe molto pesante da fare perché bisogna di fatto replicare la parte di gioco del giocatore in 2 in 3 in 4 volte di più copiandolo ugualmente avendo la replicazione delle variabili sul punto del giocatore sulla carta del giocatore che diventa a questo punto 1 2 3 anche qua quando impareremo le liste sarà diciamo così molto più facile generalizzare il gioco non solamente a un giocatore ma a un numero qualsiasi di giocatore memorizzando i singoli punteggi all'interno di diverse posizioni di queste appunto liste sto facendo un po' di pubblicità sul prossimo argomenti che affronteremo settimana prossima iniziamo a parlare di funzioni che ci serviranno anche per semplificare un pochino il codice soprattutto quando c'è delle parti ripetitive ma nel frattempo faremo vari esercizi che continuano a lavorare su questi argomenti qua string condizionali e cicli perché effettivamente anche su esercizi molto semplici però gli spunti di ragionare su quelle che sono le soluzioni ci possono essere soprattutto diciamo così è un messaggio che lancio a chi di voi sta un pochino faticando un po' di più sta cominciando a faticare in questa parte è il momento di non perdersi questo su questo argomento siamo andati abbastanza lenti abbiamo andato per due settimane anche sulla parte delle funzioni è un argomento molto semplice e quindi di fatto usiamo il tempo e il prossimo laboratorio per approfondire questa parte dei cicli questo è il punto in cui il corso inizia a diventare più difficile quindi se vi accorgete che state incontrando qualche difficoltà è il momento di insistere fare qualche esercizio in più chiedere qualche domanda in più in modo da poi affrontare la seconda parte del corso che è quella dalle liste in avanti che effettivamente mette insieme molte più cose se avete buone basi su questa prima parte iniziale quindi siamo quasi a metà del corso essenzialmente stiamo finendo la settimana 5 quindi ne abbiamo altre 7 ma le ultime 2 non contano perché sono temi d'esame quindi essenzialmente siamo al giro di boa cercate di consolidare bene almeno questa parte per essere sicuri sul fare gli esercizi fare gli esercizi ovviamente non vuol dire vederli fatti da qualcun altro risolti ma mettersi lì provare a farli arrabbiarsi perché non funzionano chiedere aiuto e riuscire a risolverli ho usato l'ultimo minuto per fare il predicozzo a questo punto vi posso lasciare vi pubblico il materiale a breve sul sito anche con l'ultima versione con gli ultimi aggiornamenti vi ringrazio buona fine settimana buon ponte di Halloween o dei Santi come lo vogliate chiamare noi ci vediamo la settimana prossima grazie arrivederci grazie grazie